E' difficile farsi un'idea visibile, seria, reale, approfondita di una città complessa come Catania, una città che ha presenza industriale, commerciale di vario genere, anche la città dove c'è avanti un numero di infortuni sul lavoro dell'area, dove sono tante contraddizioni e certamente per poterla conoscere è ancora necessario lavorare, è quello che stiamo facendo anche per la riorganizzazione del nostro ufficio e teniamo conto di tanti aspetti prioritari da quelli della pubblica amministrazione, quindi dal controllo della legalità del suo settore a quello dell'ambiente, quindi l'autosivismo di inizio dell'ambiente, a cui certamente anche quella criminalità organizzata che rimane una priorità per il nostro uomo, che posso dire che rafforzerà eventualmente l'aspetto delle usure di prevenzione in maniera da poter colpire i patrimoni mafiosi e comunque i patrimoni illegili, questo è un'altra delle priorità che ci siamo date.